Anch'io penso che questo incontro sia stato molto arricchente da diversi punti di vista innanzitutto perché mi ha permesso di avvicinarmi a dei pensieri che sono diversi da quello cristiano quindi anche a delle concezioni diverse ma che allo stesso tempo ho notato anche che si avvicinavano l'un l'altra infatti anche i tre interlocutori prendevano l'uno la parola dell'altro e continuavano il pensiero magari declinandolo con una diversa prospettiva e riguardo al destino è una domanda che ovviamente mi sono posto come penso chiunque a un certo punto della propria esistenza e ritengo che siano stati molto utili anche gli studi che sto conducendo e penso che sia una domanda sì importante e che io rispondo con una citazione latina quindi mi rifaccio forse ai grandi che sono sicuramente più autorevoli di me nella risposta ovvero che fabber est su equisco e fortune ovvero che ciascuno è fabbro della propria sorte grazie a tutti